Il 15 aprile incomincerà il campionato di Rally Cross 2016. Nel 2014 il team Peugeot Hansen arrivò terzo, conquistando una vittoria e cinque podi. Nel 2015 ha vinto il titolo Costruttori, con cinque vittorie e undici podi. Inoltre, Timmy Hansen si è laureato vice campione mondiale. Per il 2016 sono già pronte a partire, oltre alle due Peugeot 208 WRX guidate da Hansen e dal nuovo prestigioso arrivo Sebastian Loeb, anche altre due vetture della Peugeot Hansen Academy, guidate da De Vigeny e dal campione junior della RX Lite, Kevin Hansen.